e bellissima ragazzi, io sono l'ombra scura e benvenuti a un nuovo video allora oggi andiamo a vedere, andiamo a reagire ai fail di fortnite, no reagire, a vedere pronti? 3, 2, 1, andiamo, let's go nani prima cosa, aspettate che vi tolgo, vi tolgo, vi tolgo la, vabbè avete capito ok, aspetta ok, aspetta ci sono una cadena c'è una cadena così avevo il primo piano e quindi non sono anche un nuovo video c'è la cadena vede 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 la intro? boh non sapete che mi sa che la intro questo? ok no stiamo col carrello già mi immagino cosa succederà finirà malissimo no perchè non li metti dai non so perchè non li volzi comunque li dovrebbe rimettere fuori uuuu gg si in realtà è un po' un fail perchè lui voleva fare uno scoop col cecchino e l'ha ucciso col carrello però vabbè dai no no dai adoro no io pensavo che erano le pale invece era quello col piccone oddio i remi quello che erano oddio qua toglieva 10 mi sembra no 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 ma non è nemmeno morto quello è bello ma è una festa non è non è non è parco giochi è vero non ci ho capito niente se cioè si però io ho già capito forse secondo me si but lo sapevo che è nato meno male che l'hanno tolta quella cosa cioè c'è la fine di cosa cioè c'è ancora però non uccide ah si l'ho vista questa no bellissima questa questa qua è bellissima già l'avevo vista questo fa così così si però continua perché già l'ho visto un'altra che continuava no no dai no 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 oddio questa è una bounce ok 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 via scappa col passiteco col carrello via 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 no ti è salito in giro è mo lol lol no a me fa la stessa cosa da scontare e poi lo lascia è geni no no dai zoe l'hanno rimesso eh però ma perchè non li sparo ah ecco perché dai io l'avrei già sparato oddio binocoli oddio no ma dove cacchio sparo questo ok non lo finisce ok ah dai vai mi sta proprio indicando dai poverino no 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 la volevo farse oltre riferito ecco 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 non ci sto capire non ho capire ah va bene Quanto sarà ancora il pompa del mondo? Ah, questo qua è 166 di pinga Non li la... Ah, ecco Ah, no Oddio, no No, era fighissimo sto coso What? Come sono morti? Con le granate! Da un'altra squadra, da un altro team Da un team nemico perché sono di male Mi voglio, mi voglio pennelli il simbolo E li mettono il nome sopra Perché adesso non c'è stato più Big Braily Che scemi che sono questi Come però, come ho fatto a sapere che c'era quello sotto? Ma che cacchio Ah, ma c'era pure la webcam sopra Non l'avevo nemmeno vista Ma che cacchio No! Perché quello lì Prima di vedere sta cacchia Vabbè È che quello lì Si sta muovendo perché non... Perché Mica sapeva che quello lì Era una persona dentro il cospuglio Vabbè Una cosa Ma che cacchio Uh, bello Quello Dele comandare Pure la deagle Jetpack La robolla Figo Io per questo voglio Li mettono i canali I canali I canali Che fa queste cose No, che filata Sono un po' Eh, però Allora 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 Ah no Quante erano queste Sta cosa Comunque La fine Quando dava Quando ti uccideva Alla fine Di fortnite Dava troppo facile Non ci uccideva Ah Oh 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 Lì lagga a lui Però no 25 Ecco Cacchia No Lì lagga a lui Perché Mi sa che Lì lagga Non ho capito Boh Ma lì lagga Perché non li finiva Eh sì Questo qua Lag Se non ti spara È lagga Non è che non ti sta sparando Ok non Quello lì di prima Era lagga Lui Anche se aveva 24 Dei ping Perché Sparavano E non gli dava il danno E non li Non diminuivano le munizioni Non è Super Gattito E pure italiano Questo qua Che credo Super Credo Si Italiano Cecchinata Vi scommettiamo No Ah Bene Beh in qualche modo Doveva andare a finire male No Forse Si Credo che Lo Cosa avevo Ma Quello Bello Che non l'ha fatto Nemmeno a posto Perché Quello là Lo voleva prendere Col carrello Invece E quello là Voleva salire Ed è caduto E l'hanno buttato giù Il famas Diola Che Credo Era Che era L'aug Però Con la forma Con la cosa del famas Boh Non lo so Comunque Non lo devono rimettere Lasciate Lasciatelo così L'augo No Quanto erano fastidiosi Ste cose Perché Se le appiccicavi Morivi Cioè Almeno che Non avevi lo shield Però No Ma cosa Vabbè Regà Vediamo L'ultima clip No 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 Vabbè Basta Regà E quindi Ragazzi Spero Che questo Video Vi sia L'ha 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 No 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 Ciao